Celebrati i funerali del sindaco di Spoleto Fabrizio Cardarelli, morto improvvisamente nella giornata di ieri per un malore. Una comunità intera è arrivata al Duomo per l'ultimo saluto, al primo cittadino. Tutta la sua Spoleto piange la sua scomparsa. Un uomo, un amministratore, così come è stato detto da molti, fortemente legato alla sua città, capace, appassionato e sempre disponibile a confronto con le istituzioni e i cittadini. Fabrizio Cardarelli aveva compito 60 anni, lascia due figli e una moglie. Sabato pomeriggio ha partecipato alla cerimonia dell'ex Spoletina, consegnata al generale del 7 e in quella sede ha dichiarato di non sentirsi bene. La messa è stata ufficiata da sua eminenza monsignor Renato Boccardo. A portare il conforto e il sostegno ai familiari l'aggiunta di Spoleto con i consiglieri comunali, la presidente della regione ubria Catuscia Marini, la vicepresidente Donatella Porzi, il questore di Perugia Francesco Messina, il prefetto Raffaele Cannizzaro, le forze dell'ordine, i sindaci, i colleghi di altre città e diverse autorità locali e no.